buongiorno a tutti io sono michele benvenuti su mcarp oggi andiamo a malga maraia ma prima sigla ciao Primo tratto molto molto impegnativo perché ci sarà un dislivello di un 15 per cento. Poi ci si inoltra nel bosco e dovrebbe esserci un pochino meno dislivello. Mi ricordo che dopo è terra è vero ed è quasi in piano non è che ci siano questo c'è questa scalatona e poi mi sembra che sia tutto a parte il tratto finale è tutto in piano che adesso dobbiamo andare in là costeggiare la strada. Purtroppo cari amici Malga Maraia è saltata perché c'è brutto tempo e quindi si rischiava poi di rimanere su e abbiamo deciso di portarvi a Misurina, la perla delle Dolomiti la chiamano, effettivamente è bellissima ed ora vedrete le immagini. A dopo! Grazie a tutti! Un spettacolo però, il lago di Misurina è proprio bello. Sì, sono piccoli, questi sono tutti pelosi, è vero sono i suoni belli. Sì, sono piccoli. Sì, sono piccoli. Sì, sono piccoli. Sì, sono piccoli. Sì, è una misurina oppure il Mughetto. Ma già che siamo con su... Eh, anche io stavo pensando... Poi possiamo andarsi una sera di quelle triste. Sì, il Mughetto ci possiamo andare sempre. Li chiamo? Ah, adesso li chiamo io. Giuro qua il telefono. Ce l'hai dietro il telefono? Ce l'hai dietro il telefono? Ce l'ho... Nello stranetto, sì. Ah, è a coso eh? A filo qua. Sì. Sì. Oh, grazie. No, ma chi è che erano anche i tifetti? Buongiorno. 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 C'è anche che era qua il tifetto, eh? Mhm. All'altra volta. Ehm... Ho detto se arriviamo prima delle 12.30 riescono a tenerci il tavolo. Chi non c'è nessuno oggi. Sono tranquilli. Sì, sì. Sì. Sì, ma come tu vivi? Sì. Abbiamo appena prenotato per Malga Misurina. Si mangia benissimo, di solito. Ci siamo già stati. Strepitoso. Guardate un secondo che ci siamo... Ah, la carne. La carne era buona. Due in due ne abbiamo presa. Vabbè, tutto il menù come fa Beatle. Questo è l'ago. E uno questo. Ma è ora nel lago allora. Ehm... Stai facendo il bagnetto nel lago? Esatto, sono nel lago. Come bambini, vedi? Posso dire che sei stato nel lago di Misurina. Sì. Aveva fatto il bagno. E' stato distinto, eh? Siamo oltre lago. Divieto di pesca dagli isolotti. Perché ci sono i peri, sai? Cosa ci sono? Dove si ripopolano le besturine. Dove è probabile che tu prendi del pesce e ti mettono il divieto. Questo è bello. Qua c'è acqua. C'è anche i pesciolini. Pieno. 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 è timida davanti alle telecamere si si vede un bel po non c'è neanche più l'attaccatura di una volta che stai perdendo i capelli non credo arrivato nel lago sei sicura attenta e mettiti salvagente adesso si volerai poi prima o poi che dopo ridiamo tutti milioni di visualizzazioni che bello però è tutto trasparente questo è proprio verde perché sotto c'è tutta la flora il cuore intestinale il cuore intestinale il cuore intestinale il cuore intestinale il cuore intestino il cuore intestinale il cuore intestinale l'abbiamo il cuore intestinale il cuore intestinale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, appena terminato il giro completo del lago di Misurina. Adesso andiamo a Malga Misurina a mangiare. A dopo. Eccoci qua amici, adesso andiamo a Malga Misurina. Alla prossima. Guardi che sono. Guarda, ciuccia. Non più. C'è il pane. C'è il panino, il sieno. Qua non c'è nessuno, è uscito. Guarda, va se ciuccia. E' brutta la seta. Ma cari, che bello. Anche questo ciuccia. Adesso vado. Cuccia o no? Che linguina, che onorosa, belli. Qui sta preparando il nido, eh? Guarda che si è tolto il pelo. Tant'è che ti dà il muscolto. Si è tolto il pelo vuol dire che sta facendo il nido. Eh, sì. Ci sono da caldo. Ma se ciuccia questo qui, ancora. C'è il gallasso. Ciao. Voglio attaccare. Oppala. Da, gatto. Dino. Ciao. Oh si, grattano, guarda, bebe, bebe, mucca, tiene conna? Ciao, come sei grossa, mi stanno avendo già la cittina piena, eh? Eh si, ciao. Questa è la cime, quella è no, è veloce? Sì. Ma ciò gli dà la... È giovane ciò di dire? Ragazzino sì, però vuol venire. Adesso, dagli un calcio alla macchina, quindi impara, stronza. E' un cavallo. E' questo di un muro, eh? E' così, vabbè, è una assenza. Adesso arrivano anche le mucche. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Qui si era la, ragazzi, che non fiova di prima. Qui è bassa, no? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.